Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale. Vi riferiamo di un sequestro operato a Gela dei Carabinieri, sigilli ad una intera cava e un impianto di riduzione e lavorazione di inerti per deturpamento di area sottoposta a vincolo paesaggistico. Denunciato il titolare dell'attività estrattiva, vediamo. Sigilli ad un'intera area di cava utilizzata abusivamente ai fini estrattivi, sotto chiave l'intero complesso di impianti e mezzi di cantiere di una ditta di movimento terra. E' quanto operato nelle ultime ore dai Carabinieri del reparto territoriale di Gela al termine di una mirata attività investigativa. Il decreto di sequestro preventivo è stato messo dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto appurato dagli investigatori, attraverso un'indagine scattata alla fine di settembre di quest'anno, è stato evidenziato che nelle contrade Piano Corallo e Feudo Nobile, nell'agro gelese, erano presenti diversi camion per movimento terra che operavano in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e dalle quali portavano via enormi quantitativi di aree in aria ed altri materiali inerti da cava. I mezzi si recavano in quei posti in orari assolutamente inusuali, all'alba o poco dopo, e anche la domenica. Subito dopo avvenivano i trasporti del materiale. Servizi di osservazione e pedinamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno permesso di localizzare uno dei camion che proveniva dall'area sospetta e si è appurato che tutti gli inerti prelevati dalle aree vincolate venivano lavorati nell'impianto e con mezzi di proprietà della ditta gelese di movimento terra in area autorizzata dalle autorità. L'attività dell'arma è stata coadjuvata dall'intervento degli ispettori del distretto minerario di Caltanissetta che nelle fasi di accertamento al primo accesso congiunto con i carabinieri avevano già provveduto ad elevare sanzioni amministrative per circa 20.000 euro ordinando la sospensione in via amministrativa di tutte le licenze estrattive della società. I reati contestati sono deturpamento di aria sottoposta a vincolo paesaggistico nonché di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica ed in assenza di denuncia all'autorità ed ademmimenti previsti dalla legge. Il GIP del Tribunale gelese, riconoscendo la sussistenza dei fatti contestati e attesa la completezza e puntualità delle indagini svolte con l'effettivo pericolo di reiterazione del reato e di occultamento delle fonti di prova ha ordinato il sequestro dell'intera area di cava autorizzata che si estende per diversi ettari dell'intero impianto di riduzione e lavorazione degli inerti che si trova in contrada a Catarrosone di un autocarro e di due scavatori cingolati e di una pala gommata. Il titolare dell'attività estrattiva della cava e della società un gelese di 57 anni è stato definito a piede libero e risponderà dei reati contestati. E nel corso di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria del commissariato di Gela sono state controllate 646 persone e ispezionati 337 veicoli gli agenti hanno esaminato la posizione di 37 soggetti agli arresti domiciliari di 42 sorvegliati speciali e di una persona con libertà vigilata elevate 25 contravvenzioni al codice della strada manette per Salvatore Gravagna 34 anni per furto e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale 6 le persone denunciate per vari reati dalla rissa al portabusivo di oggetti atti a offendere guida senza patente appropriazione indebita danneggiamento a seguito di incendio e false attestazioni a pubblico ufficiale e furto. Quest'ultimo reato è stato commesso da un ragazzo di appena 14 anni. E' aperto anche oggi l'ufficio elettorale del comune di Gela retto da Nando e in Cardona per chi dovrà ritirare le schede elettorali o rinnovare la tessera ricordiamo che domani per il referendum costituzionale si vota dalle 7 alle 23 a Gela sono 59.592 gli elettori chiamati alle urne 28.851 uomini e 31.101 donne sono 609 i neomaggiorenni che saranno chiamati al voto i gelesi all'estero che potranno votare sono 6.036 di cui 3.335 uomini e 2.700 donne 71 le sezioni in cui si voterà più due speciali all'ospedale Vittorio Emanuele e al carcere di Contrada Balate adesso parliamo dell'iniziativa che si è svolta nel carcere di Contrada Balate a Gela 10 detenuti sono stati chef per un giorno preparando un pranzo di beneficenza vediamo chef per un giorno sono i detenuti del carcere di Contrada Balate o Gela che dopo aver preso parte ad un progetto di gastronomia realizzato dall'associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo preseduta da Franco Città hanno preparato ieri un pranzo di beneficenza un menù realizzato con i prodotti tipici della nostra terra il progetto ha coinvolto 10 detenuti questo progetto archestrato si rifà allo scopo della nostra associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo che è quello di valorizzare i beni patrimoniali della nostra città fra cui le eredità immateriali e quindi la gastronomia la cultura gastronomica gelese è fra questi quindi il progetto è stato proposto ed approvato e quindi realizzato a partire dal mese di giugno L'iniziativa si è realizzata grazie alla collaborazione dello chef Toto Catania il ricavato sarà devoluto all'associazione AIRC preseduta a Gela da Graziella Condello L'aiuto alla ricerca è un punto importantissimo poi io reputo questa iniziativa particolarmente importante per la sede dove si svolge e per le finalità che ha perché noi dobbiamo pensare anche a queste persone che si trovano in condizione di difficoltà e coinvolgerle nella gestione di un pranzo reputo un'idea eccezionalmente buona Presenti ieri numerose autorità civili militari e religiose Si parla tanto di rieducazione si parla tanto di rendere appunto veramente il messaggio ai detenuti in maniera positiva e di appunto rieducarli ma spesso diciamo è difficile a concretizzare queste iniziative questa apertura la presenza delle istituzioni mi pare veramente la risposta migliore che si possa dare perché dobbiamo sempre ambire proprio al reinserimento dei detenuti nella società civile veramente rieducarli riabilitarli quindi penso che queste siano le manifestazioni più belle e veramente concrete ecco non solo fatte di parole ma di segni tangibili Il direttore del carcere di Gela Gabriella Di Franco I detenuti sono entusiasti prima durante il progetto avevano avuto queste varie evoluzioni la prima fase era solo legata a loro insegnare come si cucina riscoprire i cibi del passato anche i gusti del passato e poi dopo abbiamo capito che si volevano anche scommettere un po' nel cucinare e poi abbiamo pensato ai commensali e poi siccome facevamo prevenzione alla lotta ai tumori abbiamo trasversalmente legato tutte cose cibo sano cibo riscoperto e speriamo contribuire alla prevenzione alla lotta ai tumori A causa della contabilità di fine anno la cassa dell'ufficio verbale al comando della polizia municipale di Gela rimarrà chiusa dal 9 dicembre al prossimo 7 gennaio lo ha reso noto l'assessore comunale al controllo del territorio Rocco Darma il pagamento dei verbali può comunque essere effettuato ugualmente o tramite bonifico grazie all'ottomatica oppure con poste italiane da oggi e per tutti i venerdì sabato e domenica di questo mese dalle 17 alle 21.30 sarà attiva nel centro storico di Gela una navetta gratuita a servizio di tutti gli utenti che parte dal parcheggio Arena e giunge in corso Vittorio Emanuele il servizio è offerto dai commercianti del centro storico che sono fermamente convinti che la zona traffico limitato può essere un vantaggio per tutti soltanto se coadiuvata dai servizi i negozi del centro saranno comunque aperti tutte le domeniche di dicembre un altro importantissimo obiettivo è stato raggiunto a Gela da Caltacqua nell'oromai decennale gestione del servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Caltanissetta dopo risultati ottenuti nei mesi scorsi in Iscemi da qualche giorno anche a Gela nel quartiere Marchitello la distribuzione è garantita 24 ore su 24 inoltre sempre a Gela nelle aree che sono servite dall'asservatoio Spina Santa adesso l'erogazione idrica avviene nelle ore diurne come più volte sollecitato dai residenti e dal sindaco Domenico Messinese in entrambi i casi si tratta di risultati rilevanti che il gestore impiegando esclusivamente proprie risorse economiche ha potuto conseguire grazie al lavoro assiduo delle proprie mestranze e dei propri tecnici che hanno eseguito interventi di manutenzione straordinaria sostituito tratti di condotta monitorato livelli di portata e di precisione tutte manovre e test perfettamente riusciti che nonostante qualche disagio arrecato alla cittadinanza alla fine dice una nota di Caltacqua hanno consentito di garantire all'utenza del quartiere Marchitello l'erogazione idrica costante durante l'intero arco della giornata un risultato pianificato da Caltacqua con la giunta comunale nell'ambito dei tavoli tecnici convocati dal sindaco che fa il paio con quello analogo che era già stato raggiunto in precedenza nella zona Macchitella già da tempo in regime H24 oggi dunque cresce la percentuale del territorio di Gela che è servito da una distribuzione idrica 24 ore su 24 che il gestore ritiene di incrementare ulteriormente nei prossimi mesi per Caltacqua ciò non rappresenta un punto di arrivo ma uno snodo importante lungo quel percorso di costante crescita della propria gestione sul territorio dell'intera provincia di Sena che tende a garantire ad un numero maggiore di cittadini un servizio sempre migliore ed efficiente con particolare attenzione alle tematiche di carattere ambientale alla sicurezza e all'erogazione continua H24 continuano a Gela le iniziative per i festeggiamenti dell'immacolata concezione previsti per l'8 dicembre oggi alle 18 e caristia con la presenza delle mamme in attesa dei volontari del CAV affidamento a Maria e benedizione della vita nascente alle 19.30 la corale polifonica perfetta Letizia renderà omaggio a Maria tutte le manifestazioni si svolgono nella chiesa San Francesco d'Assisi retta da Don Giorgio Cilindrello Giovedì 8 dicembre alle ore 10 in occasione del quarto centenario della nascita di San Francesco di Paola con una celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana verrà riaperta al culto la chiesa di San Francesco di Paola detta Do Santu Pace di succorso Vittorio Emanuele Piazza Sant'Agostino Natale ecologico e liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII circa 800 le bottiglie in plastica riciclate e utilizzate dagli studenti per realizzare l'albero di Natale posizionato all'ingresso dell'istituto bottiglie che sono state raccolte in questi due mesi dai professori dagli studenti e dalle loro famiglie poi assemblate giovedì mattina dando così sfogo alla creatività dei più giovani e non solo e al rispetto per l'ambiente un'idea portata avanti nell'ambito del laboratorio d'arte tenuto dalle insegnanti Aurelia Speziale Maria Grazia Gianfriddo Nadia Rizzo e Marzia Guarneri L'idea diceva Platone che l'eros nasce da penie poros cioè da un lato dalla povertà e dall'altro lato dagli espedienti che si trovano in una condizione di povertà che fa sì che noi mettiamo in campo tutte le nostre risorse da qualche anno a questa parte voi sapete che i fondi delle scuole sono stati fortemente tagliati e allora il laboratorio d'arte si è dovuto reinventare in che senso si è dovuto reinventare perché abbiamo messo in campo la nostra creatività per utilizzare nuovi materiali e tra questi materiali c'è anche la plastica delle bottiglie già l'anno scorso durante il laboratorio teatrale i ragazzi hanno costruito delle scenografie con materiali molto poveri però è stato un espediente che ci ha fatto trovare una nuova via che è quella del riuso del rigiglo per cui i ragazzi adesso sono invitati sempre a recuperare le bottiglie di plastica non buttarle nel cestino dell'indifferenziato perché anche queste possono avere nuova vita e possono essere utili per costruire qualcosa di diverso un'occasione per trascorrere delle ore in espensieratezza e rinsaldare il rapporto tra studenti e insegnanti ma anche per riscoprire il valore dei rifiuti come risorsa è stata una bella esperienza perché abbiamo potuto collaborare insieme i professori sia dal punto di vista realizzativo sia anche dal punto di vista della raccolta perché devo dire che molti ragazzi hanno fatto di tutto per raccogliere queste bottiglie e finalmente abbiamo realizzato questo desiderato albero dalle nostre professoresse questo albero rappresenta appunto lo spirito natalizio proprio perché nasce dalla collaborazione l'impegno e l'unione e quindi anche dal riciclaggio che ha fatto quasi tutta la scuola rappresenta l'impegno che hanno unito la professoressa John Fried la professoressa speciale nella realizzazione di quest'albero ed è stato diciamo importante un segno anche abbastanza positivo per la nostra scuola sia per l'impegno la collaborazione appunto e la realizzazione stessa che è stata una grandissima soddisfazione da parte tutta la scuola le associazioni nazionali dei carabinieri della guardia di finanza e della polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre prossimo una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si terrà presso la chiesa di Sant'Agostino con inizio alle ore 18 la messa sarà ufficiata dal vescovo della diocesi di piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana alla presenza di autorità civili e militari provinciali e locali forze di polizia e associazioni d'arma è prevista anche la presenza del coro perfetta Letizia San Giovanni Enedicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale questi gli argomenti più importanti il referendum che divide l'Italia tra sì e no a Gela come in Lombardia una guida al voto con i commenti dei nostri politici raccolti da Nello Lombardo il Masanielle in Sicilia tra corsi e ricorsi storici ne parla Giulio Cordaro nella sua rubrica politicamente scorretto sequestro di beni ad un affiliato di Cosa Nostra tutto sulla recente operazione di Carabinieri e Finanza poi tre sedute consigliari a vuoto in aula si batte la fiacca i resoconti di Nello Lombardo nella pagina politica e all'interno altri articoli di attualità e cultura le pagine delle aste giudiziali gli annunci economici e lo sport con le finestre sugli impegni calcistici di Gela e Terranova bene ci fermiamo c'è la pubblicità restate con noi a tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale con un piccolo gesto rendi più dolce il tuo Natale come ogni anno la sottosezione Unitalsi di Gela propone la vendita dei presepi di cioccolato ad ogni acquisto sarà regalato un biglietto con diversi premi tra cui il pellegrinaggio all'URD il ricavato sarà completamente devoluto per le iniziative a favore dei ragazzi in difficoltà appuntamento oggi e domani il 10, 11, 17, 18 dicembre in piazza Umberto I in piazza San Giacomo via Palazzi Angolo via Albania via le corte maggiore davanti ai muretti di Macchitella e dinanzi alle parrocchie cittadine il comitato femminile della pubblica assistenza procivis protezione civile di Gela in occasione delle prossime festività natalizie organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti la raccolta di cibi non deperibili rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa viene presso la sede della Procivis in via Ossidiana numero 23 fino al 22 dicembre prossimo dalle 15.30 alle 20.30 la distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre subito dopo il consueto precetto natalizio dei volontari della pubblica assistenza Procivis previsto per le 19 libri a caratteri grandi per agevolare la lettura circa 20 testi arrivati nella biblioteca Scarabelli di Caltanissetta nei giorni scorsi donati dalla biblioteca italiana per i povedenti Bionlus si tratta di libri che facilitano la lettura appunto a persone anziane con la vista indebolita i povedenti o con ridotte capacità visive e che vanno dai libri per ragazzi alla narrativa e presentano delle specifiche caratteristiche di impaginazione come la grandezza dei caratteri o gli spazi tra le parole e lettere si tratta di un'iniziativa proposta dalla biblioteca nazionale per i povedenti la Bionlus che qualche tempo fa mi contattò proponendomi l'offerta di alcuni testi per la biblioteca che potesse raggevolare e facilitare la lettura della persona con problemi di vista che non è il cieco ma è che la persona potrebbe essere il dislessico oppure comunque la persona che ha difficoltà nel leggere da vicino nel guardare da vicino io ho accettato di buon grado questa iniziativa perché sono testi offerti gratuitamente donati alla nostra biblioteca e finalmente abbiamo concretizzato questa iniziativa da alcuni giorni fa con l'arrivo dei primi testi che spaziano dalla narrativa ai libri per ragazzi ai libri di storia e quant'altro con la promessa che da qui tra un po' ne arriveranno degli altri ho ritenuto e ho accettato subito queste iniziative e ho pensato di collocarli in un posto di concentrarli tutti in un unico scaffale in maniera tale da essere ben visibili e identificabili comunque l'utente interessato alla lettura di questo tipo di testi può sicuramente visitare il nostro sito caltanissetta.sebbina.it e vedere quali sono attualmente i testi disponibili questo con l'augurio che possa servire al al cittadino all'utente che fino ad ora magari è rimasto un po' emarginato nella lettura e così possa più facilmente accedere allo studio o all'interesse per qualunque tipo di letture è previsto per domani alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Roviano Pignatelli di Gela il recital del pianista Nicolò Cafaro l'iniziativa rientra nella 82esima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra siamo allo sport parliamo di calcio domani al Vincenzo Presti ci sarà il derby Gela San Cataldese i Biancazzurri vogliono la quinta vittoria di fila sentiamo la passata stagione fu un test a testa entusiasmante alla fine la spuntò la squadra più organizzata la più forte il Gela la San Cataldese si trova nel campionato di Serie D grazie al ripescaggio e domani si ripeterà il derby del Nisseno che polarizzerà l'attenzione di tutti appuntamento alle 14.30 al Vincenzo Presti i Biancazzurri del tecnico Pietro Infantino stanno volando 4 vittorie di fila 12 punti 9 gol fatti ed uno solo subito i San Cataldesi arrivano dalla sconfitta interna subita con la Turris ma un derby è una partita a sé noi non guardiamo la carta ma guardiamo il campo non sarà una partita facile è una partita abbastanza tosta e cercheremo di di fare di fare bene e cercare di portare i tre punti a casa e come si fa a battere la San Cataldese? mettere voglia cattiveria e cuore dentro il campo l'unica cosa è questa qua un Gela che marcia spedito nelle zone alte della gradutoria un ruolino di marcia che ha sorpreso anche gli stessi addetti ai lavori è vero che pensiamo partita dopo partita non pensiamo alla prossima settimana se c'è la Leonzio noi adesso aspettiamo la San Cataldese in casa e cercheremo di fare risultato la coppia più bella del mondo l'abbiamo definita Montalbano buon anno segnata sempre voi speriamo che continuiamo così cosa è cambiato l'abbiamo detto anche in altre circostanze dalla scopola tremenda a fratta maggiore alle quattro vittorie consecutive che poi in maniera molto più dettagliata hanno portato intanto 12 punti 9 gol fatti e soltanto uno subito niente come ho già detto nelle interviste scorse è cambiato l'atteggiamento l'unica l'unica cosa è cambiata perché abbiamo capito che dovevamo stare con i piedi per terra dopo 5 gol abbiamo preso a fratta quindi abbiamo cominciato a ritornare umili i biancazzurri si trovano ad una sola lunghezza dal secondo posto e a meno 5 dalla vetta ma quali sono gli obiettivi? gli obiettivi è divertire e divertirci questo è l'unico obiettivo poi a fine anno tiriamo le somme questo Gela dove può arrivare allora? può arrivare nelle prime 5 speriamo arrivare nelle prime 5 noi dobbiamo solamente continuare a fare bene è l'unico obiettivo che abbiamo noi Gela Sangataldese 1 in schedina? sì dai si terrà giovedì 8 dicembre prossimo in piazza Umberto Primo a Gela la manifestazione Corri con Papà Natale 2016 l'appuntamento è previsto alle 9.30 l'iniziativa è organizzata dall'associazione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti in collaborazione con il comitato locale Unicef la Croce Rossa la protezione civile eligio soccorso e con il patrocino del comune l'evento rientra nel progetto di educazione alla salute sport e ambiente che ha la finalità di promuovere l'attività motoria in età evolutiva all'aperto per informazioni e iscrizioni 347-5799-271 Appuntamento al cinema all'antidoto di Gela il film in proiezione Ti amo presidente sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 mentre ancora per lo spettacolo al teatro comunale Eschi loggio alle 17.15 alle 21.15 è prevista la rappresentazione di Filomena Marturano di Edoardo De Filippo per la regia di Liliana Cavani è tutto con lo spettacolo anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti